Non solo rifiuti, l'emergenza palermitana torna a essere l'acqua. A causa delle scarse piogge della siccità anomala per il periodo, la soluzione sembra essere soltanto una, ovvero la turnazione dell'acqua per garantire una riduzione del consumo almeno del 30%. A metterlo in chiaro, una relazione del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione, documento stilato vista la decisione della settimana scorsa, in concetto con Comune e Amap, di chiedere lo stato di calamità naturale al Governo nazionale. Out-out della Presidente di Amap, Maria Prestigiacomo, che ha dichiarato prima la richiesta dello stato di calamità, poi procederemo con la turnazione. Stato e Regione si devono prendere la responsabilità di questa turnazione, visto che il Comune ed io chiediamo che venga dichiarato lo stato di calamità da un anno e il Governo regionale si è sempre rifiutato di darvi seguito. Dito puntato anche contro il Governo nazionale, che lo scorso anno avrebbe imposto ad Amap di riversare in mare milioni di metri cubi d'acqua, il 40% della capacità dell'invaso di Rosa Marina, per liberarlo dai residui. Nell'attesa della dichiarazione dello stato di calamità, l'azienda intende affittare sei pozzi dai privati per permettere l'erogazione di circa 200 litri d'acqua al secondo in più e creare un collegamento con la sorgente presidiana di Cefalù, che ne aggiungerà altri 130 litri al secondo. L'ipotesi portata avanti dalla Prestigiacomo è investire sui dissalatori, ancora tutta da discutere. Intervenuto anche l'ex assessore, oggi consigliere comunale di Sinistra Comune, Giusto Catania. La privatizzazione dell'acqua attraverso l'istituzione di Sicilia Acqua ha aggravato l'annoso problema dell'acqua in Sicilia. Il contribuente oggi paga l'acqua più che in altri luoghi d'Italia, ma Palermo corre il rischio di restare a secco. Gli invasi sono vuoti e la gestione da tempo è stata affidata a soggetti terzi che gestiscono persino le reti di distribuzione. Diventa urgente chiedere lo stato di calamità naturale.